Benvenuti in Italmotor, benvenuti in via Cardinal Massaia 5, via stradello 82, dove troverete vetture nuove, chilometri zero, vetture aziendali, vetture d'occasione, in più la possibilità di finanziare anche l'intera cifra, piccolissime le rate mensili comprensive anche di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Andiamo a scoprirle insieme. E cominciamo subito con una Lancia Ypsilon, un 1.269 CV, Euro 6, con climatizzatore nuova a chilometri zero, pensate a partire da soli 8.900 euro. E continuiamo con un Jeep Renegade 1.6 Multijet, 120 CV, allestimento limited, pochissimi i chilometri percorsi, con climatizzatore automatico, cerchi in lega 17 pollici, sensori, parcheggio anteriori e posteriori e tantissimi altri optional, sarà vostro a soli 20.900 euro. Alfa Romeo Mito 1.3 Multijet, 95 CV, allestimento super, con cerchi in lega, fendinebbia, climatizzatore, cruise control, radio con porta USB e Bluetooth nuova a chilometri zero. Qui in Italmotor potrete scegliere il colore a partire da soli 13.900 euro. Passiamo ad una Fiat 500X, un 2.0 Multijet, 140 CV, con cambio automatico, quattro ruote motrici, la porterete via a soli 20.800 euro. Un mezzo completo di navigatore satellitare, di cerchi in lega da 18 pollici, di fare allo xeno, di tantissimi optional, avete capito bene il prezzo, 20.800 euro. E diverse le Alfa Romeo Giulietta a disposizione qui in Italmotor in via stradella 82. diversi colori, diversi allestimenti. Un in particolare un 1.6 Multijet, 120 CV, con fendinebbia, cerchi in lega, cruise control, sensori parcheggio e tantissimi altri optional. Nuova a chilometri zero, la porterete via pensate a partire da soli 17.800 euro. Jeep Renegade 1.6 110 CV, allestimento sport, con climatizzatore, lo porterete via a soli 16.900 euro. Un mezzo che ha percorso pochissimi chilometri, avete capito bene il prezzo, 16.900 euro. Fiat 500, 1.3 Multijet, 95 CV, allestimento lounge, con fendinebbia, climatizzatore, cerchi in lega, tetto in vetro, nuova a chilometri zero. Un mezzo che di listino supera i 18.000 euro. Qui a Little Motor la porterete via a soli 12.900 euro. Fiat Doblò 1.477 CV, con soli 25.000 chilometri. Un mezzo praticamente nuovo che porterete via a 7.900 euro. Fiat Fremont 2.0 Multijet, 170 CV, allestimento urban, con cerchi in lega da 19 pollici, climatizzatore automatico, interno in pelle, sarà vostro a 14.500 euro. Fiat Cubo 1.3 Multijet, 75 CV, allestimento dynamic, con climatizzatore, radio CD MP3, sarà vostro, pensate, a soli 9.900 euro. Un mezzo che ha percorso pochissimi chilometri, immatricolato nel 2015, garanzia ufficiale della casa madre, 9.900 euro. Parliamo adesso di Lancia Ypsilon, parliamo di un 1.269 CV, allestimento gold, con radio connect, che vuol dire comandi al volante, bluetooth, climatizzatore, sensori parcheggio, sarà vostra a soli 9.900 euro. Se preferite, piccolissime le rate mensili, comprensive anche di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Fiat Panda 1.269 CV, climatizzata a partire, pensate, da soli 7.900 euro. Avete capito bene, un'autovettura nuova a chilometri zero, appena immatricolata, due anni ufficiali di garanzia della casa madre, 7.900 euro. Fiat 500L 1.3 Multijet, 85 CV, allestimento trekking, l'allestimento più bello, con cerchi in lega 17 pollici, con navigatore satellitare, telecamera posteriore, climatizzatore automatico, sarà vostra a 14.500 euro. Fiat 500 Cabrio, un 1.269 CV, allestimento lounge, solamente 14.000 i chilometri percorsi, immatricolata nel 2015, sarà vostra a 11.800 euro. Alfa Romeo Mito, 1.478 CV, nuove a chilometri zero, le porterete via a partire da soli 10.800 euro. Fiat 500X 1.3 Multijet, 95 CV, allestimento pop star, sarà vostra a 18.900 euro. Toyota IQ, un 1.000 cambio automatico, pochissimi chilometri percorsi, sarà vostra a soli 5.900 euro. Abarth 595, un 1.4 Turbo, 160 CV, allestimento turismo, con interno in pelle, sensori parcheggio, climatizzatore, cerchi in lega da 17 pollici e soprattutto solamente 24.000 i chilometri percorsi, sarà vostra a 14.500 euro. Suzuki Jimny, 1.3 con climatizzatore, 80.000 i chilometri percorsi, sarà vostra a 7.800 euro. New Y, 1.3 Multijet, 95 CV, allestimento gold, immatricolata nel 2015, un fine 2015, garanzia ufficiale della casa madre, 20.000 i chilometri percorsi, sarà vostra a 10.900 euro. Fiat Punto 1.2, 69 CV, allestimento street, 5 porte con fendinebbia, climatizzatore, radio CD ed MP3, nuove a chilometri zero, garanzia ufficiale della casa madre, saranno vostre a partire, pensate da soli, 7.900 euro. Avete capito bene? 7.900 euro o, se preferite, piccolissime le rate mensili, comprensive anche di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. 500L 1.3 Multijet, 85 CV, allestimento Popstar, con climatizzatore, cerchi in lega, radio, connect, bluetooth e porta USB, saranno vostre a soli 13.800 euro. Meno 1.000 euro di scontorottamazione, le porterete via a soli 12.800 euro. E concludiamo con una Fiat 500, un 1.269 CV, allestimento S, il più sportivo, con cerchi in lega, climatizzatore, sensori, parcheggio e tantissimi altri optional, sarà vostra a soli 11.800 euro. Tutto questo e molto altro dove in via Stradella 82, in via Cardinal Masaia, numero 5, vi aspettiamo da lunedì al sabato. Ciao!